Accompagnata dai genitori e dall'avvocato Enrico Maria Gallinaro, la studentessa di Tivoli, vittima della violenza sessuale a Pizzoli, nell'Aquilano, è stata ascoltata per quasi due ore stamani dal PM David Mancini, che la scorsa settimana ha chiesto e ottenuto l'arresto di Francesco Tuccia, militare 21enne della Vellinese, distanza al 33esimo reggimento Artilleria Terrestre Acqui del Capoluogo. La giovane è stata dimessa ieri sera dall'ospedale San Salvatore, dove è rimasta ricoverata per 19 giorni e ha subito due interventi chirurgici. La sua testimonianza era molto attesa dagli inquirenti, il cui obiettivo resta quello di ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti, indispensabile per confermare l'accusa nei confronti del soldato detenuto a Castrogno, inchiodato già dagli esami del RIS, che hanno trovato tracce ematiche della ragazza sulla sua camicia, su un suo braccialetto e sulla sua mano. Tuccia, che anche attraverso il suo legale continua a parlare di rapporto consenziente, teoria che sarebbe incompatibile con le lacerazioni riportate dalla vittima, dovrà rispondere anche di tentato omicidio. Dopo aver trascorso la notte a casa di un'amica all'Aquila, la ragazza si sposterà ora in una località segreta.